ben ritrovati in occasione della festività della beata vergine maria assunta in cielo si vuole dare un piccolo frammento d'arte in un bellissimo dipinto di un artista nato in provincia di bergamo in valserina nel 1480 morto a venezia il 30 luglio del 1528 un pittore molto legato agli influssi della scuola veneziana in prima amico di lorenzo lotto e anche suo concorrente jacopo palma il vecchio jacopo nigretti della valle nato appunto in valserina ma che ha operato moltissimo a venezia una delle sue opere più importanti morto nel 1528 quindi anche relativamente giovane perché era nato appunto nel 1480 amico e collaboratore e anche concorrente di lorenzo lotto che guarda prototipi figurativi come giovanni bellini ma anche a giorgione e soprattutto a tiziano quindi questa bellissima assunzione della vergine datata al 1513 un olio su tela comunque che è conservata le gallerie dell'accademia di venezia un olio su tela che era poco meno di due metri per un metro e 50 di larghezza 1,37 centimetri questo dipinto che era stato appunto stilato per la scuola di santa maria maggiore ce ne dà notizia anche il vasari e roberto ridolfi dicendo che c'era un altro dipinto andato perduto con lo stesso soggetto nella chiesa di san mosè comunque questo dipinto viene confiscato dai commissari di napoleone nel 1808 nel 1812 entra di proprietà delle gallerie dell'accademia di venezia dove tuttora si trova è un dipinto che ri molto statico non ha quel dinamismo che troviamo invece nel dipinto che caratterizzerà l'assunta di tiziano si può dire cinque anni dopo è un dipinto che si può dividere in due sezioni la parte superiore dove c'è questo movimento appena accennato dei panneggi della madonna vestita con questo splendido abito rosso guardare poi come gioca la luce nelle pieghe di questo vestito e le variazioni appunto del rosso contornata da questo mantello blu svolazzante con i cherubini attorno fa da sfondo questo bellissimo tramonto veneto con questo paesaggio roccioso con queste attenzione lenticolare proprio anche al suolo alle pietre al cartiglio qui c'è anche giovanni bellini perché comunque c'è un richiamo alla madonna astunta che si trova nella chiesa di san pietro a murano di giovanni bellini e la staticità degli apostoli però c'è questa ritmica spaziale dato appunto dalla postura degli apostoli nella zona inferiore e qui c'è l'episodio della madonna che lascia la cintura alla sua cintura a san tommaso in preghiera al centro della composizione vicino a san giovanni evangelista san giovanni evangelista alla stesso tunica lo stesso abito del colore dell'abito della madonna e se notate anche la ritmica cromatica invece il vestito di tommaso in atteggiamento di preghiera ha il suo panda nel mantello dell'apostolo all'estrema sinistra e anche nell'apostolo di spalle visto quasi si può dire di busto nella parte destra il tutto acceso da questa splendida luce tonale qui c'è dietro la lezione dell'ultimo giovanni bellini e ovviamente di giorgione è un dipinto veramente che da serenità che fa capire questo evento sacro straordinario dell'assunzione calato nel quotidiano e nella devozione delle scuole di venezia che erano le grandi istituzioni di carità caritativa quindi capite molto bene che gli influssi della grande scuola veneziana su un pittore che faceva parte dell'entroterra veneziano dove però a venezia ha trovato il suo percorso e lo sviluppo appunto stilistico della sua produzione che si è conclusa appunto con la sua morte nei primi trent'anni del cinquecento grazie per l'ascolto grazie a tutti 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 grazie a tutti